Ultimo giorno di una pessima campagna elettorale e, come da tradizione, anche l'ultimo giorno, non mancano gli ingredienti per confezionare l'ultimo bestiario elettorale. Partiamo. Primo. Calenda, reo confesso. Scrive Calenda. Si conclude oggi una delle peggiori campagne elettorali di sempre. Nessun confronto, promesse foglie, allarmi democratici, coalizioni allo spando, Peppa Pig, Conte e Modello Lauro, da Piombino la richiesta di un time-out su energia. Noi l'abbiamo fatta in modo diverso, con sei d'età. Si, lo immaginiamo, mentre pronuncio tutto questo, uscendo con le mani alzate. Poi, Peppa Pig, seconda puntata. Il 51enne deputato, nonché tra i fondatori di Fratelli d'Italia Federico Mollicone, responsabile, udite udite, cultura del partito guidato da Giorgia Meloni, ha rilasciato un'intervista su RTV San Marino. A Hotel Nazionale, le stanze della politica. Un talk show di approfondimento politico. E per difendere la sua uscita contro il cartone animato, Peppa Pig, Mollicone, si è lanciato in una formazione ancora più cretina. E ha detto, bisogna ricordare che in Italia le coppie omosessuali non sono legali, non sono ammesse. E pensate che questo è solo il trailer. Poi, Salvini e la frutta. Dice Salvini, via il canone Rai. Se Fazio vuole fare i suoi comizi, se li paga di tasca sua. Ha ragione. Su questo Luca Bottura, che dice, dire che i programmi di Fazio sono comizi durante un comizio, succede quando non è in programma. Come è arrivato stanco. A questa fine campagna elettorale. Il poro Salvini. Poi, Silvio Frainteso, il re dell'infraintendeismo, Silvio Berlusconi, dopo aver difeso Putin, spiegandoci che lui avrebbe semplicemente voluto sostituire Zelesky per metterci lì delle brave persone, ora si chiara indietro e dice, bastava vedere tutta l'intervista, non solo una frase estrapolata, eccessivamente semplificata, dice l'ex cavaliere, ormai senza cavallo. Solo che, ascoltando tutta l'intervista, ne esce perfino peggio, visto che dà perfino consigli di strategia militare alla Russia. Ma non è colpa sua. È colpa delle badanti dei parassiti, che lo tengono politicamente in vita, con accanimento. Poi, balle nucleari, dice Matteo Salvini. Vorrei 15 centrali nucleari operative nei prossimi dieci anni. Tutti gli esperti dicono che sia impossibile, oltre che costoso. Ma Salvini, che non studia dai tempi del liceo, a questo punto potrebbe chiederle direttamente per Natale, sotto l'albero. Poi, nemmeno suo figlio. Il figlio di Salvini, durante la maratona di Salvini su TikTok, ha scritto Papà, domenica è un giorno importante, voterò la prima volta. Magari avrai anche il mio voto. Ha detto magari, eh? Poi, Italexit balla da sola. Gianluigi Paragone dice, vogliamo uscire dall'Euro, dall'Unione Europea, dalla Nato, dall'OMS, dalla Banca Mondiale, dal FMI. E in effetti anch'io non mi scriverei mai in un'associazione che a me è come socio. In effetti. Poi, il PD non se la suona. Hanno detto di no al PD alcuni big della canzone italiana, a cui il partito di Enrico Letta aveva chiesto di esibirsi sul palco di Piazza del Popolo, dove ieri sera i democratici hanno chiuso la campagna elettorale. Scrive a Dianne Cronos che hanno rinunciato Gali, Mammut, Diodato e altri che sono stati contattati. La risposta è sempre stata la stessa da parte di tutti. No, grazie. A pesare, dicono, oltre che gli impegni già presi, sarebbe il rischio di un'esposizione politica non ritenuta opportuna. Altro che occhi di tigre. Qui non si trova nemmeno un ukulele. E infine, Meloni smemorata. Scrive Giorgia Meloni, non vogliamo dimenticare il sacrificio di salvo d'acquisto, eroe italiano. Però, se dimenticata, di dirci ti l'ha ucciso, salvo d'acquisto.